Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Oggi sono stati rilasciati parecchi eventi, abbiamo un nuovo Lost Chapter, un nuovo banner dove andremo a pullare e infine il Tier 7 di Dimension and the Trophy. Abbiamo anche la nuova colorazione del rank, il rank Platino, che non mi piace assolutamente, ma lasciamo stare la colorazione del rank e passiamo al Tier 7. Tier 7 che ho completato con un team composto da Aranea, Eiko e Bash, e come summon mi sono portato dietro Shiva, ma semplicemente perché me la trovavo in gruppo. Secondo me qua una summon vale l'altra, poiché l'ultimo boss non ha resistenze o debolezze elementari, quindi una summon vale l'altra, anche se effettivamente il bonus alla velocità di Shiva potrebbe tornare abbastanza utile, visto che i boss sono parecchio veloci. Questo stage Chaos finora è il più semplice rilasciato al mio parere, sarà perché c'è Aranea che è davvero devastante, però non ho trovato grosse difficoltà, anche se l'ho dovuto provare tre volte, ma giustamente non sapevo come si svolgeva lo stage e quindi ci sono rimasto fregato. La prima volta sono arrivato tranquillamente alla terza ondata, l'ultima ondata, il boss si alza agli impiedi e mi va a effettuare immediatamente un attacco Brave più HP, shottandomi Aranea, così, subito, instant. E quindi potevo fare reset, ma ho preferito rifare tutto da capo. La seconda volta che lo provo, nella seconda ondata, i due Formicaleoni e i due Antoleon, appena si attivano il buff, fanno l'attacco Brave che ti breccano, appena ti breccano fanno immediatamente l'attacco HP, e mi hanno shottato malamente Echo, perché non mi ero accorto che effettivamente non avevo dato il debuff con Bash. E quindi ci sono rimasto fregato anche quest'altra volta, mentre la terza volta è quella che vedrete a schermo, dove è filato tutto liscio, senza grossi problemi. Aranea in questo stage è stata fantastica, DPS puro, mamma mia e danni ragazzi che fa Aranea, è qualcosa di impressionante. Non ho neanche utilizzato tutte le sue skill, me ne è rimasta una, e avrei potuto anche evitare di utilizzare qualche altra skill, ma verso la fine ho deciso di massacrare il boss in summon, ho detto vabbè dai, ho quasi finito le skill con gli altri, Aranea, distruggilo, cioè non lasciargli proprio scampo, ammazzalo malissimo, e fallo fuori, e quindi ho sprecato un bel po' di skill con Aranea, e l'ho distrutto male. Da Eiko mi aspettavo qualcosina in più, visto che gli Antoleon sono deboli all'elemento sacro, però i danni che andava ad effettuare Eiko non erano tantissimi, non erano eccezionali, e questo è dovuto al suo scarso attacco, che non era un attacco così elevato, però grazie alla sua 15 e alla sua 35, riusciva a ottenere un buon battery, così da caricare il brave di Aranea e fare ancora più danni con lei. E infine, Bash si è comportato, devo dire, egregiamente in questo stage, grazie al suo scudo, al suo aggro, che riesce a subire i danni HP, anche quelli AOE, e a dimezzarli, quindi non male. Bash qua è davvero molto prepotente, in più ha davvero tanti HP, arriviamo all'incirca 20.000 HP, sarà anche grazie al buff di Eiko naturalmente, ma 20.000 HP sono davvero tanti. La prima ondata di questo stage non è nulla di che, se partite con Aranea come è successo a me, in un turno riuscite tranquillamente a superarla senza grossi problemi, fate la sua 35 e poi fate l'attacco HP, prima ondata fatta. La seconda ondata dovete inizialmente attaccare, fregandomene dell'attacco brave che fanno, perché fin quando non hanno il buff, non vi andranno a fare l'attacco HP, e appena si andrà a inserire anche uno solo di loro il buff, utilizzate la 15 di Bash per prendere l'aggro, così evitare qualsiasi problema, cosa che io effettivamente non avevo fatto, perché vi ho detto non me ne era accorta, e quindi mi ha shottato malissimo Eiko. Mentre nella terza fase, state attenti perché può sembrare semplice, ma il boss ha un'abilità che è in grado di negare le vostre skill, per uno o due turni adesso non ricordo, ma non avrete praticamente le skill, potete fare semplicemente l'attacco brave e l'attacco HP. Fortunatamente fin quando all'aggro lo fa su Bash, ma se lo fa anche su Aranea, là è un problema perché Aranea comunque lo può spostare, quindi nel caso tocca due volte a Bash, ridà l'aggro, sicura eccetera eccetera, grazie anche all'HP Regen di Eiko. E vi consiglio di utilizzare la summon verso la fine, o magari quando proprio vedete che non avete altre possibilità di scampo, magari proprio non avete più skill, non avete modo, perché le avete bloccate, non avete modo di difendervi, allora in quel caso andate di summon e massacratelo già in quel momento, anche perché le sue skill, le skill del boss sono abbastanza randomiche, che non ha un partner ben definito a mio parere, utilizza le sue skill abbastanza randomicamente, sì, sì. Quindi state attenti all'ondata finale. Il consiglio per questo stage è risparmiate quante più skill possibili con Aranea, per poi sfruttarle contro l'ondata finale. Potrebbe andare benissimo anche un altro personaggio al posto di Eiko, magari un altro curatore, un debuffer, perché no, anche un debuffer potrebbe andare bene in questo stage, ma qua Bash, secondo me, è davvero eccezionale. non so effettivamente se... andrebbe bene anche Zack, solo che io Zack qua non ce l'ho viola, adesso con i lingotti che ho preso lo faccio viola, perché lo andrò a utilizzare sicuramente nel prossimo tier. Beh ragazzi, non voglio dilungarmi oltre, dunque io vi invito a iscrivervi al canale, commentare, lasciare like, e detto ciò, mi lascio al video. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.